Pronto soccorso della Mater Dei si parte. Come da delibera del direttore generale della ASRE di Bari numero 1424 del 29 luglio scorso, oggi lunedì 1 agosto parte il primo servizio del genere in capo a una struttura privata. Desiderosi di documentare l'avvio del servizio, siamo andati questa mattina alla clinica, ma, sorpresa, di ambulanze del 118, nemmeno l'ombra. Quella che immaginavamo come una mattinata intensa, in realtà si è presentata come una situazione di calma assoluta. Abbiamo chiesto di poter entrare e riprendere il lavoro all'interno del pronto soccorso, ricevendo un garbato massecco rifiuto. Contattata allora telefonicamente la direzione sanitaria, per ben 4 volte ci è stato detto di riprovare successivamente. Come ultimo tentativo abbiamo sentito il dottor Gaetano Di Pietro, direttore della Centrale Operativa del 118, e qui abbiamo scoperto l'arcano. Non abbiamo notizie ufficiali sulla via del servizio, ci ha detto. La delibera c'è, ma il servizio prevede l'avvio solo in caso di nulla osta da parte della regione. Noi, a concluso, non stiamo per ora dirottando nessuna ambulanza alla Mater Dei. E noi invece aspettiamo a che qualcuno ci spieghi come stanno le cose.